Volevo parlare di questo insieme a te, perché è il problema alla base e c'è la comunicazione. Tutto il problema nasce dai mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione ormai, ecco l'immagine che vediamo in televisione, chi ha la fortuna di vedere Radio Radio TV adesso è collegato con l'app su Digital Terrestre, sulla TV satellitare di Sky, canale 826 e 676 Digital Terrestre. Può vedere, o addirittura la cosa migliore è l'app, scaricate l'app o lo vedete in streaming su RadioRadio.it, vedete anche la TV, c'è questa immagine divertentissima che un autore si è divertito a modificare. Questa era un'immagine di un blog che ha modificato con le mascherine e tutte le pecore con le mascherine. Quelli siamo noi, anzi direi in modo così anche... Direi siete voi, nel senso che è provocatorio nei confronti di chi ci ascolta, siete voi quelli perché ormai ci siamo abituati a questa cosa e la cosa più brutta è abituarsi ad un qualcosa che ci diminuisca non solo i diritti ma soprattutto la capacità di ragionare. La mascherina è una di quelle cose. Molti ricercatori, scienziati, medici ci hanno spiegato che l'inutilità di questo orpello... Ma vedi Francesco, guarda la comunicazione come... Ed è qui il punto fondamentale che vogliamo trattare in questo inizio stamattina. Magari lo facciamo insieme, te ed io, perché è la cosa migliore. Noi facciamo comunicazione da più di 40 anni e ne abbiamo viste. E abbiamo visto come quando c'è qualcosa da dover far passare per forza inizia l'ostracismo nei confronti della libera comunicazione che poi ovviamente trova la sua massima espressione nella censura. La censura cos'è? La censura è semplicemente tagliare, segare un qualcosa, vietare di dire qualcosa, vietarti la libera espressione delle tue idee con varie forme, fino alla violenza ovviamente. Questo è quello che sta accadendo, solo che mentre una volta la violenza tu la potevi esercitare fisicamente, cioè prendevi le persone, le incarceravi, le bloccavi. Nell'antichità sì, venivano incarcerate le persone, gli oratori venivano presi e portati via, perché tu non potevi prendere un palchettino e metterti a parlare alla gente. Quindi l'oratore scomodo veniva incarcerato sotto varie forme, no? Gli veniva detto di tutto, gli venivano imputate cose che non esistevano e veniva portato via. Oggi queste forme violente, almeno nella civiltà occidentale, che ancora esistono in alcuni paesi, che ancora esistono in alcune nazioni dove la cultura non aveva avuto nel tempo la possibilità di svilupparsi e soprattutto la democrazia non ha avuto la possibilità di svilupparsi, lì ancora c'è e ancora funziona così. Le persone vengono prese, incarcerate, arrivederci e grazie. Qui da noi, dove nel passato i nostri predecessori, i nostri avi, i nostri nonni, i bisnonni, eccetera, andando indietro hanno gettato il loro sangue sulla strada per farci arrivare a un minimo di democrazia, questo adesso, e quindi tornare indietro proprio con la violenza è più complesso, però a chi vuole censurarci, a chi vuole far passare un'idea, viene incontro la tecnologia. Oggi la tecnologia si sostituisce sostanzialmente alla violenza nella censura. E qual è il trucco? Il trucco è far affermare alcuni mezzi di comunicazione rispetto ad altri, cioè far sì che il cosiddetto mainstream sia controllabile e controllato, per poi andare a chiudere i rubinetti lì. Cosa voglio dire? Che se noi arriviamo al punto che uno, due, tre soggetti controllano tutta la comunicazione che arriva facilmente nelle nostre tasche, nelle nostre orecchie, nei nostri occhi, cioè tutto quello che passa per quelli che oggi sono i dispositivi che noi utilizziamo maggiormente... Non c'è più Berlusconi, quindi il problema non esiste più. Berlusconi è stato un esempio di come si può censurare o arrivare a una sorta di pensiero unico. Però Berlusconi è una mammola in confronto a quello che accade oggi. Non c'è il suo lavoro, ha fatto il suo lavoro quello che ha fatto. Però è stato un primo esempio di questa teoria, che poi non è una teoria, di questa considerazione che stiamo facendo tutti insieme. Quindi se noi abbiamo oggi ormai acquisito il concetto che le informazioni ce le andiamo a cercare su Google, che i video li troviamo su YouTube, che i social sono Facebook, Instagram, tutta questa roba qua, e che quindi la nostra informazione passa per quello, e in alternativa possiamo anche andarci a guardare i mainstream televisivi, ancora Rai, questa roba Mediaset, questa roba qua, Sky, eccetera, eccetera. È ovvio che basta controllare questi tre, quattro soggetti e abbiamo risolto il problema. E andare a censurare laddove c'è qualcuno che ha un pensiero diverso. È molto semplice. Prima era più difficile, perché ne dovevi controllare tanti. Oggi, avendo canalizzato come un imbuto tutta l'informazione all'interno di alcuni media che sono nella gestione, nel controllo di pochissime persone, e quelle persone ovviamente tutte vicine a un potere che gli fa comodo, è chiaro che il pensiero unico si fa strada. Ed è molto più forte, ed è molto più difficile contrastare. Allora badate bene, badate bene quello che sta accadendo in questo periodo. In questo periodo non vengono censurati tutti quei discorsi che il mainstream potrebbe far passare per complottismo. Laddove, perdonatemi, io recupero un pensiero del recente compianto Giulietto Chiesa che dice che il complottista non è colui che svela il complotto, ma colui che lo nasconde. È chiaro, perché il vero complottista è quello che nasconde il complotto, non quello che lo svela, o quello che comunque cerca di capire se ne esista uno. Quindi in realtà che cosa accade? Accade che il mainstream, come abbiamo detto, ha in mano tutta l'informazione. Quindi che cosa fa? Lascia passare quei concetti che possono essere o etichettati come complottismo, ok, impropriamente, oppure che si mescolano nel bailame, dove tanta gente è separata. È divisa, è frazionata nei vari social, cosiddetti social, e che non gli creano un danno. Perché poi arriva in pompa magna l'oratore in diretta televisiva a Rete Unificate, ci racconta due cose, ci fa quattro promesse, e come diceva Cettola Qualunque, chiuppilo per tutti e tutti siamo felici. E noi accettiamo queste cose banalmente, e ci beviamo qualsiasi stronzata, come diceva Cettola Qualunque, che voglio dire è una cosa che gli italiani sanno fare molto bene, bersi le scemenze. Pensare poco, ecco, purtroppo. Poi hanno capito che noi basta che ci dai un po' di giocarellini e abbiamo risolto il problema, non ci interessa più del resto, e quindi noi viaggiamo su questo Titanic verso l'iceberg tranquilli e beati. Quindi le mancette servono solamente ad accontentarci temporaneamente. Per poi, chi invece, non è che fa i soliti pipponi pseudocomplottisti, oppure li vogliono far passare per tali, chi invece cerca di entrare nel problema e andare a cercare di scardinare il problema alla radice, quello viene censurato. Questo è accaduto a noi e ad altri. Noi abbiamo tre, quattro video su YouTube che sono stati rimossi, e noi abbiamo ovviamente rimesso sulle nostre CDN. CDN significano strutture che possono contenere dati di largo accesso per il pubblico. Li abbiamo rimessi su altre piattaforme, quindi non sono visibili in una rete che ha la possibilità di accedere in modo anche dove tutti sono abituati ad andare. Questo è il problema. Il problema è che siano tutti abituati ad andare in un unico repository che non ha però regole certe come quelle delle radio. Ma rimossi per quale motivo erano stati rimossi? Rimossi perché si spiega... Beh, loro dicono perché tu hai violato le norme della community, ma non è vero ovviamente. E infatti, peraltro, almeno i nostri video rimossi, sono due o tre dove noi spiegavamo che il problema è la radice, cosa che adesso diremo di nuovo. e sono all'attenzione di una serie di uffici legali che noi abbiamo interessato perché a questo punto credo sia opportuno procedere anche legalmente facendo appello al nostro paese, alle regole del nostro paese, all'autorità per la garanzia delle comunicazioni, ai diritti che ci sono costituzionali, YouTube pur essendo un'azienda esterna addirittura che risiede nei paradisi, eccetera, eccetera, fiscali piuttosto che legali, però nel momento in cui tu fai impresa in Italia e devi sottostare a quelle regole. E noi chiederemo quindi allo Stato di battere i pugni sul tavolo e eliminare la censura. La censura quando avviene? Avviene quando tu ti inventi un motivo senza comunicarlo, cioè tu dici hai violato le norme della community per cui ti rimuovo e tu non puoi fare nulla. Ti dicono, beh, no, tu puoi fare un ricorso. Un ricorso non esiste perché una paginetta dove tu dici faccio il ricorso, clic, e aggiungi una motivazione, 110 caratteri, 120 caratteri, c'è praticamente meno di un sms, meno di un tweet. Cioè, ma se tu non mi dai il motivo per cui hai rimosso, che ricorso ti faccio? E poi in un tweet... Ecco, questo è un elemento interessante. Allora... Non sapere neppure il motivo. Non saperne il motivo. Esattamente, in linea delle volte con quello che la legge fa nei nostri confronti. Allora, esatto. Non sapere il motivo. Che non vengono spiegati, questo è grave, secondo me. Bravissimo. Esatto. Allora, questo è il punto fondamentale. Quando noi iniziamo ad accettare, quando noi, nella nostra società, iniziamo ad accettare una cosa del genere... Scusami, Francesco. Sì, sì. Devo bere, ma... Io, ripeto, ne approfitto per ripetere il numero per i messaggi. È valido sempre in ogni trasmissione. SMS, Whatsapp al 3775 104 500. 3775 104 500. Eccoci. Eccoci, sono questi pioppi nell'aria, che purtroppo questo è il periodo... Maggio, metà maggio, è il periodo delle allergie. Ecco. Allora, abbiamo fatto i test sierologici per questo Covid, sono tutti negativi, ma le allergie rimangono. Quelle sono storie vecchie, antiche, ma tengono duro. Le piccole allergie rimangono. Ecco, torniamo al discorso, scusateci per l'interruzione allergica. Allora, dicevamo che soggetti come YouTube ed altri, Facebook, eccetera, non ti rimuovono i contenuti senza spiegarne il motivo. Perché se dovessero spiegarlo, ovviamente non ci sarebbe il motivo. perché non c'è nella maggior parte dei casi. Poi ci sono ovviamente quei casi dove vengono usati linguaggi violenti, incitazione all'odio, e quindi in quel caso è giusto, è ovvio, anche una censura che io comunque farei sempre passare per la magistratura. Cioè, laddove una persona che è riconoscibile da un nome, cognome, da una carta d'identità, ok, quindi da una identità certa, pubblica un qualcosa che incita all'odio, deve essere perseguito, ma da un giudice. Perché poi è difficile che un soggetto diverso da un giudice possa valutare. Se noi facciamo passare nella nostra società moderna il principio che la censura, ovvero la rimozione dei contenuti inappropriati, debba passare per il giudizio di un privato e non di un giudice, abbiamo creato un quinto potere che è però il potere sovrastante tutti gli altri, caro Francesco, che praticamente assorbe addirittura il potere del governo, il potere della magistratura, il potere della comunicazione. È esso stesso il massimo potere assoluto. Cioè, se arriva un ragazzino brufoloso di YouTube o di Google o di Facebook che dice che il mio contenuto deve essere cancellato e non mi dà un motivo e non mi dà neanche la possibilità di difendermi, abbiamo cancellato in un microsecondo secoli di storia, secoli di diritti. E se i paesi, e se i governi, e se i cittadini soprattutto oggi accettano questa imposizione e si abituano a questa imposizione, è finita la civiltà. È finita. Perché secondo te un governo, un paese, non si prende cura di questo? Eppure esistono degli organismi, no? Guarda Francesco, io non lo so. C'è il corecom regionale, c'è l'autorità nazionale. Guarda, ci sono dei paesi che hanno mandato lettere di intimidazione a questi cosiddetti pseudosocial. e questi ci sono paesi come la Svizzera, ad esempio, a proposito continueremo a sentire Karim con Valerio per continuare a raccontare come funzionano le cose in altri paesi che ad esempio non c'è Amazon perché Amazon non ha concluso un accordo non solo con il fisco svizzero ma addirittura con l'associazione dei commercianti che andava comunque ad interessare negativamente e quindi non c'è. ci sono paesi come torniamo a prendere come esempio la Svizzera dove tante cose non accadono perché i governi hanno già detto guardate che se voi censurate i nostri cittadini dopo che hanno sottoscritto con voi un contratto e lo fate senza motivazione noi cancelliamo i vostri DNS dal nostro paese cioè tu non entri più qua ok ma paesi forti ci sono ma Google che è proprietaria di Youtube lo sa questo lo sa e quindi sa dove andare ad incidere e dove non andare ad incidere cioè i paesi prede si distinguono dai paesi predatori perché oggi il mondo si sta sempre dividendo di più fra prede e predatori fra leoni e gazzelle non ci sono più tutto il resto degli animali la fauna meravigliosa come dovrebbe come nella natura cioè no ormai noi uomini saremo divisi fra gazzelle e leoni e quindi se siamo gazzelle dobbiamo iniziare a correre e a scappare soprattutto ecco questo è il punto se noi ci abituiamo e l'Italia si sta abituando perché il paese delle mascherine il paese del famoso lockdown cioè degli arresti del confinamento domiciliare dell'arresto domiciliare senza motivo ovvero giustificato da una campagna di disinformazione che è passata per campagna di informazione e disinformatori sono gli altri invece non è così e allora se noi abbiamo cancellato il diritto alla critica perché se noi critichiamo sui mezzi ormai che funzionano che sono diventati di uso comune pur non soggiacendo alle regole della nostra Costituzione alle regole comuni quelle ad esempio alle quali dobbiamo soggiacere noi che facciamo radio e televisione con una concessione noi siamo soggetti al controllo dell'agcom sapeste quante rotture di coglioni noi riceviamo di associazioni o pseudo associazioni che scrivono all'agcom dicendo voi avete detto di noi questo quindi vi chiediamo di motivare di dire di fare due palle Francesco a rispondere sempre tempo perso però quello è il sale della democrazia noi lo accettiamo mandiamo risposte ogni tanto sai qualcuno sai quelli un po' più permalosi adesso sappiamo quali sono i riferimenti ecco che ogni tanto di ah tu hai detto questa cosa per cui hai discriminato no guarda non è così se risenti bene poi la cosa finisce lì però è giusto che ci sia è giusto che l'agcom l'autorità per le garanzie e le comunicazioni se ne occupi è giusto che ti chieda delle informazioni è giusto che tu gliele dia punto questa è la democrazia ecco nel caso dei grandi media di oggi questo non accade perché c'è c'è l'abitudine e ci stanno abituando alla censura preventiva senza motivo per cui tu devi aver paura a scrivere qualcosa o a dire qualcosa perché altrimenti vieni cancellato e anche se dici qualcosa che è naturale e normale vieni cancellato ugualmente allora cosa voglio dire Francesco voglio dire che se noi ci abituiamo a questo è finita e sta finendo sta finendo il nostro paese proprio perché noi non ci ribelliamo al pensiero unico al pensiero unico che avviene tramite i mass media più grandi e tramite tutti i cosiddetti pseudo social come li chiamo io gli asocial che in realtà ci danno l'illusione di essere liberi ma nel momento in cui noi iniziamo a porre un dubbio che potrebbe mettere in discussione tutta un'intera teorema e allora lì subiamo la censura senza motivo ti cancellano ti spengono e tu non sai perché non puoi neanche fare nulla e l'hai accettato e allora tu dici porca puttana forse mi sai che la prossima volta siccome io voglio comunque la mia visibilità la voglio continuare perché siamo tutti narcisi per evitare di essere bannato altro neologismo che significa essere cancellato dalla visibilità sociale tu eviti di parlare di quello ecco qua che si è compiuta la censura a 360 gradi senza spargere una goccia di sangue e senza che nessuno ne abbia contezza che si è compiuta